Non è una chiamata alle armi quella che avviene in regione Lombardia fino al 14 di febbraio, ma un invito caldo per una pagina storica che ha dilaniato l'umanità. Esattamente nello specifico stiamo parlando di una legione ebraica, nello specifico ancora degli ebrei sotto il dominio del regno di Sabaudio. Ciò che vedete sono dettagli e non solo aforismi, documenti storici e fotografie dell'epoca. Perfino la stampa è stata citata, è qualcosa di incisivo, dato e detto da Benito Mussolini a Trieste nel 1938. Curiosi? Dovete venire. Resistenza, Shoah, ebrei ed ebraismo, la pagina è pronta. L'emancipazione è possibile, qualcosa di più da parte vostra.